Buongiorno, siamo con Giuseppe Vasili in occasione della presentazione di un corso rivolto ai vigili del comando di polizia locale di Vetralla, ma non solo, abbiamo visto una grande partecipazione. Ci vuole spiegare perché è qui? Io sono qui per promuovere l'utilizzo, l'impiego di un nuovo sistema per effettuare i controlli della velocità, quindi educare gli automobilisti al rispetto delle regole, soprattutto per quanto riguarda la velocità. La velocità causa sempre della gravità degli incidenti, gli incidenti fatti a velocità elevata sicuramente comportano delle conseguenze gravi.